Musica Book Pride, Andrea Palombi del direttivo dell'Odei oggi un importante dibattito sull'ipotesi di una legge sul libro quali sono le caratteristiche di questa proposta? La legge sul libro è un'iniziativa fondamentale al nostro giudizio per riuscire a garantire innanzitutto i motivi fondativi dell'Odei cioè la possibilità di sopravvivere della bibliodiversità della differenza nella produzione editoriale e quindi nella produzione culturale la legge sul libro in questo momento è particolarmente urgente per almeno due motivi cioè costruire le condizioni della promozione della lettura perché si parla molto di promozione della lettura ma gli strumenti concreti mancano e poi per rispondere anche a un'offensiva in parte demagogica e in parte un po' ipocrita sul prezzo dei libri che pretende di liberalizzare lo sconto sostanzialmente sul prezzo dei libri non sapendo che in questo modo si restringono le possibilità di concorrenza non si allargano, non si abbassa il prezzo dei libri e soprattutto si dà il via a nuove forme di concentrazione di oligopolismo e in prospettiva di monopolismo perché lo sconto liberalizzato sul prezzo dei libri impedisce la concorrenza ad armi pari Il libro non è quindi una merce come tutte le altre? Il libro ovviamente non è una merce come tutte le altre voglio ricordare che sui libri e sulla produzione editoriale di un paese viaggia l'intero sistema di conoscenze di un paese viaggia le sue tradizioni culturali, la sua storia praticamente e sarebbe il caso che anche lo Stato e le istituzioni pubbliche investissero in qualche modo su questo perché i dati dell'Italia sono molto allarmanti io appunto ricordavo prima l'Italia ha il 41% dei lettori e la Germania l'82% cioè il 100% in più questo è il vero spread che ci dovrebbe preoccupare uno spread culturale che significa anche uno spread sappiamo tutti che gli indici diciamo di lettura e quindi insomma anche gli indici di cultura sono strettamente legati alle possibilità di crescita e di sviluppo economico di un paese Ma voi avete la possibilità di farvi sentire di fronte a colossi come internazionali e nazionali che lavorano proprio sulla distrutturazione del mercato della cultura per realizzare appunto un profitto senza corrispettivo di crescita culturale del paese? Beh noi intanto abbiamo il dovere di provarci e oggi mi sembra un bel punto di partenza perché al tavolo c'erano le associazioni degli editori, le associazioni dei librai e tutti si sono ritrovati sostanzialmente d'accordo ad esempio nell'essere pronti a respingere nuovi tentativi di questo tipo che sono successi pochi mesi fa sì in realtà poche settimane fa è stato appunto respinto il tentativo di stralciare praticamente di abrogare la legge Levi con degli articoli inseriti all'interno del disegno di legge sulla concorrenza che è arrivato in consiglio dei ministri questa possibilità però c'è ancora in quel disegno di legge sulla concorrenza arriverà adesso in aula e qualcuno teme che ritornino quegli articoli sotto forma di emendamento già oggi appunto con un altro punto importante abbiamo detto che siamo pronti a schierarci contro questa possibilità infine la legge che percorso prevedete di presentazione, di dibattito quali sono gli interlocutori che avete attivato? noi intanto ci siamo rivolti a tutte le forze politiche speriamo e crediamo insomma che sia possibile costruire uno schieramento il più trasversale possibile a sostegno di questa legge che lo ripeto introdurrebbe sgravi fiscali per detrazioni fiscali per chi acquista libri e istituisce un albo delle librerie di qualità che è sostanzialmente un modo per sostenere le librerie indipendenti le librerie che fanno davvero le librerie incominciando a lavorare diciamo in direzione contraria a quella dei supermercati del libro insomma a quelli delle grandi catene e che ci sembra un modo anche per favorire in realtà concretamente la promozione della lettura perché le librerie lo ricordiamo sono veri e propri presidi culturali sul territorio specie in provincia, specie nelle zone, specie non nelle grandi città quindi oggi mi sembra molto positivo che sia partito questo dibattito noi comunque contiamo entro breve tempo di concludere appunto con il contributo di tutti la stesura di questa proposta di legge e di presentarla in Parlamento con i parlamentari che accettano il consenso dei cittadini il consenso dei cittadini ovviamente con cui appunto in realtà la proposta di legge è uno strumento per avviare un dibattito insomma per un, come si diceva poco fa per costruire un consenso sociale intorno a questi temi che sono molto molto importanti grazie infinito grazie a tutti